Il tuo nido Eri triste laggiù in città Accipicchia Qui c'è un mondo fantastico Haidi, haidi Canti dopo me Io sono più nei libri Io sono più nei libri Buonasera, buongiorno, ciao 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 Come stai? Ciao Tutto bene? Tutto bene Ci fai vedere lo studio? Et voilà Accomodatevi Eccolo qua Qui è dove nascono le tue opere? Sì Sicuramente avete visto degli studi migliori C'hai più opere? Che si vedono nei film O più libri? Più libri Fammi vedere allora che cosa sono Questa è una figura Tutto questo scaffale e tutta roba dove ci sono io Cataloghi Libri dove sono citato Eccetera Sei qua o sei nei libri? Io Sono più nei libri Io Sono più nei libri Queste sono vecchie diapositive di miei quadri Una vecchia opera? No, questa me l'ha regalata un mio amico, un pittore siciliano E invece qua c'è Kokoschka Questa è Kokoschka che è stato il mio maestro nel secolo scorso, un secolo fa praticamente Però con una dedica Con una dedica, sì Vediamo un po' Questi invece che cosa sono? Questi sono questi ricordini, questi che fanno Guarda Con la neve Senti, invece qua giù ho visto delle foto, me li fai vedere? Foto? A che cosa servono questi? Servono a documentarmi Io, essendo un pittore realista, quando ero ragazzo e facevo delle cose più stilizzate Facevo dei disegni dal vero, degli schizzi che mi soddisfacevano Erano abbastanza per tirarne fuori dei quadri A mano a mano che la mia pittura è diventata più realistica Non posso mettermi a fare delle cose con tutti i chiaroscuri in mezzo al traffico, eccetera E per cui faccio delle fotografie abbastanza brutte Che però mi danno sufficienti informazioni per fare i quadri Se devo sapere come è fatta una motocicletta Ecco, prendiamo a casaccio, vediamo cosa viene Ecco, va, è stata così Ecco, questa è una manzarda di Parigi Che tu hai questo rapporto con Parigi? Sì, io vado continuamente a Parigi Questo è il corridoio di un albergo a Berlino, fra l'altro Questo è un bistrò di Parigi Sul quale ho fatto un grande quadro Che è finito ad Atlanta, in Georgia Allana, come dicono loro Che altro ci abbiamo qui? Ma niente, questo è un interno di una casa al mare Insomma Mi serviva un mappamondo Ho fotografato un mappamondo Senti, invece queste sono opere vecchie? Queste sono opere, sì, abbastanza vecchie Degli anni Ottanta Questo è il nudo che scende le scale Perché sarebbe... Indusciamo Insomma, sarebbe un vero nudo che scende le vere scale Questo è vecchissimo Questo è del 58 E' un quadro di 50 anni fa Che disco gira? A quell'epoca A quell'epoca cosa poteva essere nel 58? I Platters, non so, questa roba qui We have a dance!